ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv come sempre iniziamo la giornata dando un'occhiata ai giornali il resto del carlino il Corriere Adriatico sulle pagine locali non dobbiamo però dimenticare le pagine nazionali dove ovviamente il conflitto tra Russia e Ucraina interessa moltissime pagine soprattutto sono pagine molto molto drammatiche vediamo come a Mariupol la situazione sta peggiorando ci sono migliaia di cittadini che sono prigionieri in questa enclave circondata dall'esercito russo che non lesina mezzi bellici veramente terribili per conquistare quel territorio noi però ci limitiamo ai nostri problemi di casa che sono molto molto minori rispetto a quelli appunto che stanno osteggiando la vita nei cittadini dell'Ucraina oggi è giovedì 21 aprile 2022 una giornata che è dedicata a un santo particolare si tratta di Sant'Anselmo di Aosta in realtà è nato insomma ha lavorato non è non è nato è lavorato in Inghilterra e in diverse parti d'Europa ma è nato insomma dalle parti del Piemonte intorno all'anno 1000 a Sant'Anselmo è stato tante cose è stato un frate benedettino un maestro un filosofo un mistico un predicatore uno scrittore un riformatore della vita religiosa è stato riconosciuto come un dottore della chiesa e chi è dottore della chiesa? dottore della chiesa è il titolo che la chiesa cristiana attribuisce a delle personalità religiose che hanno mostrato nella loro vita ma soprattutto nelle loro opere particolari doti di illuminazione della dottrina sia per quanto riguarda la fedeltà sia per quanto riguarda la divulgazione oppure per riflessione teologica insomma sono laureati dottori della chiesa e veniamo alle previsioni del tempo vediamo che il tempo è cambiato rispetto ai giorni scorsi vediamo la mappa sulla regione Marche vediamo prevalere la pioggia il tempo si è trasformato da sereno a instabile con piogge sparse tra la notte e il mattino e nuovamente nella serata brevi locali schiarite nel pomeriggio sulle coste i venti ispireranno da una direzione di est sud est solo stesso sulla stessa direzione per quanto riguarda l'interno le temperature oscilleranno tra i 10 e i 14 gradi sono diminuite rispetto ai giorni scorsi fa fresco ma non freddo apriamo oggi il giornale il Corriere Adriatico sulla pagina di Fano e vediamo che l'apertura è dedicata alla riunione della commissione garanzia e controllo che congiuntamente con le commissioni quarta e sesta quella del patrimonio e quella della cultura si è svolta nel tardo pomeriggio di ieri si è parlato di carnevale il futuro del carnevale ma anche la situazione finanziaria dell'ente carnevalesca il futuro del carnevale è in bilico insomma è in discussione ormai da due anni l'attuale sistema gestionale non regge più alla aumentata dimensione del carnevale ma soprattutto alle diverse norme che regolano la organizzazione di manifestazioni con tantissime persone e sono le regole della sicurezza scaturite dalla legge gabrielli dopo gli incidenti di torino carnevalesca diventa una fondazione punto in interrogativo tutti gli ostacoli lungo il percorso sono stati esaminati ieri dai consiglieri della commissione è presente anche la presidente dell'ente carnevalesca maria flora gian marioli ieri un summit dunque tra tre commissioni si è parlato di burocrazia e finanze meglio una istituzione di diritto privato insomma si vuole realizzare una fondazione ma che tipo di fondazione una fondazione dove il comune esercita un ruolo preeminente e allora si dovrebbero osservare tutte le norme della burocrazia i bandi le gare d'appalto le attestazioni di interesse insomma tutte quelle lungaggini che non si addicono ad una manifestazione che deve essere così decisa in modo veloce rapido come quella del carnevale e allora forse è meglio un'istituzione di diritto privato che osserva il codice dei contratti però insomma la situazione è allo studio dei tecnici e ieri si è insomma fatto il punto sulla situazione sperando che le decisioni arrivino al più presto possibile centrale elettrica di carrara è l'altra è l'altra riunione che si è svolta nella giornata di ieri quasi contemporanea a quella della commissione garanzia e controllo si è svolta dunque un'altra riunione nella sede dell'oratorio di San Cesareo dove i residenti hanno posto un out-out a Terna l'organizzazione dell'iniziativa è stata fatta dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi il quale ha messo a confronto i residenti con i sette tecnici di Terna il problema qual è? Prima di discutere i nuovi insediamenti ovvero la nuova centrale che dovrà essere realizzata per iniziare l'elettrodotto sotterraneo l'Adriatic Link che dovrà collegare Marche e Abruzzi occorre rimediare ai problemi esistenti ovvero quelli creati dall'attuale centrale elettrica che emette un ronzio insopportabile un rumore continuo specialmente nelle giornate di pioggia come l'attuale che rende insopportabile la vita dei residenti ecco perché si è deciso di effettuare un nuovo monitoraggio da parte del Cesi che è il centro elettrotecnico sperimentale italiano il quale effettuerà nuovi monitoraggi nelle case che sono vicine alla centrale ma l'amministrazione comunale ha detto anche fate dei sondaggi anche un pochino più lontano in modo da mettere in sicurezza tutti i residenti e poi mercoledì prossimo ci sarà un'altra riunione che interesserà questa volta i nuovi insediamenti ovvero la nuova centrale che dovrà sostituire, dovrà cambiare diciamo meglio la corrente alternata in corrente continua e qui è un impianto di 6 ettari di dimensioni e poi sui giornali si parla anche della tribuna della pista Zengarini c'è una novità oggi sul Corriere Adriatico si è parlato spesso della demolizione di questa struttura che è nata male non è stata mai collaudata perché appunto il collaudo non sarebbe passato si è pensato sempre di demolirla adesso invece c'è un ripensamento l'ha evidenziato l'assessore allo sport Barbara Brunori la quale sta ripensando invece di distruggerla di ricostruirla, di aggiustarla insomma ne abbiamo parlato recentemente con il progettista che ha ricevuto l'incarico per il rifacimento della pista ha detto la Brunori anche per lui sarebbe un peccato imperdonabile non recuperare e riutilizzare un'opera del genere si tratta dell'architetto Stefano Longhi che ha ricevuto l'incarico di progettare il passaggio sotterraneo che dovrebbe mettere in collegamento appunto gli spogliatoi con il campo architetto fanè torinese che ha concepito una struttura simile per Varese e quindi è un tecnico preparato per queste situazioni e poi il giornale preannuncia la festa del cavolo a Metaurilia una nuova istituzione che si riferisce un po' alla rivalutazione di questa frazione che è stata sempre rimasta al margine un po' dell'attività dei quartieri fanesi adesso risorge grazie ad un comitato ad hoc che si è costituito e le iniziative sono cominciate con la presentazione del libro del cavolo che mette in evidenza l'apporto di tutte le famiglie che hanno collaborato prima alla valorizzazione ortiva agricola della frazione e poi per quanto riguarda la sua importanza dal punto di vista economico e culturale un insieme di iniziative a partire dal 23 per alcuni giorni dove ci saranno incontri ci saranno mostre presentazione appunto di libri iniziative gastronomiche e tante belle cose quindi è opportuno fare una puntatina a Metaurilia nel prossimo weekend e passiamo a Fossombrone passiamo a Fossombrone vediamo come si parla delle tutele per il Museo dei mezzi agricoli valorizziamo la collezione di Bisaccia parla così Eugenio Grottola che firma i grandi manifesti esposti a Fossombrone per ricordare l'amico geniale Gianfranco Bisiccia morto a 90 anni nel 2020 che ha guidato per oltre 30 anni il locale club Le Veterane richiamando da ogni angolo d'Italia appassionati di moto ed auto d'epoca compreso addirittura Luciano Pavarotti che amava la sua Lambretta quindi una iniziativa di carattere museale che valorizza anche questo aspetto della cultura cittadina e poi abbiamo l'ex Assessore May e Luzzi che controbattono alle dichiarazioni negative, critiche che sono state esposte nei giorni scorsi in merito alla quadreria Cesarini che è stata giudicata in abbandono così non ne hanno dichiarato appunto i due politici ci sembra una eseria una eresia e poi veniamo a Mondolfo dove si parla ancora delle isole ecologiche quelle con la scheda che sono state messe a disposizione più che dei residenti dei turisti dei forestieri potranno essere utilizzate sia dai turisti che dai proprietari di seconde case ecco dove sono collocate si è deciso di collocarle e vediamo in Piazza Ricci nel parcheggio di Viale Carducci presso i giardini del lungomare Cristoforo Colombo all'altezza del civico 167 in via Ugo Betti Viale Europa Bocciodromo via Andrea Costa Cimitero e nei prossimi giorni verrà posizionata anche in via Raffaello si tratta delle nuove eco-isole che ha presentato l'assessore all'ambiente Filomena Tiritiello e vediamo anche la pagina di Senigallia dove si parla di rafforzamenti per quanto riguarda l'ordine pubblico arrivano tre nuovi agenti della polizia locale a giugno ne arriveranno altri quattro il sindaco Livetti subito un aumento dei controlli l'ordine pubblico è molto posto sotto controllo a Senigallia e quindi questo rafforzamento delle forze appunto preposte al suo controllo è molto positivo trasmessa l'ordinanza anche per la spiaggia i tre agenti hanno già iniziato il servizio in anticipo rispetto agli altri anni arriveranno altri quattro poi il primo il primo giugno e per quanto riguarda l'ordinanza in spiaggia non saranno previsti i cancelli per chiudere alcuni stabilimenti balneari come avevano chiesto gli stessi concessionari di spiaggia per tutelare i loro beni già episodi di vandalismo si sono verificati nei giorni scorsi però sarà garantito il passaggio per raggiungere l'arriva a tutti coloro che vorranno farlo e poi vediamo anche altre pagine al di fuori della nostra provincia per quanto riguarda gli esi vediamo che c'è un'altra perizia disposta sugli oggetti di Simone e nel mirino c'è il sangue sul giubbotto si parla della scomparsa di Andrea Rubci che è la 27enne di origini rumene che manca dal 12 marzo scorso insomma si parla adesso le indagini riguardano in modo particolare la posizione del fidanzato Simone e poi un altro caso un altro caso il giudice alla mamma può fermare il digiuno per il figlio 13enne e questo è un caso molto molto particolare il padre è musulmano siamo in periodo di Ramadan il padre impone al figlio il digiuno del Ramadan dal mattino alla sera non si mangia e non si beve la mamma non è d'accordo dice che questo digiuno può pregiudicare la vita ma anche il rendimento scolastico del figlio e quindi ricorre al giudice e il giudice le dà ragione ebbene queste cose imposte non possono essere accettate e veniamo ora alla pagina di Pesaro del Corriere Adriatico dove si parla soprattutto del caro vita ed ecco il titolo che appare a lettere cubitali bollette da incubo il comune in aiuto di chi non ce la fa il fondo anticrisi predisposto dall'amministrazione comunale si allarga per poter intrecciare anche la cosiddetta fascia grigia la fascia grigia è quella fascia dei cittadini che si pone tra chi vive in estrema povertà e chi vive nel benessere c'è una fascia intermedia dove ci sono le difficoltà pur non essendo tali proprio da essere estremizzate ebbene il comune di Pesaro ha introdotto aiuti maggiori rispetto al bonus sociale statale bonus che potrà aiutare anche questa fascia di età che non riesce a pagare le utenze di luce acqua e gas caro energia un conto salato nobili 3 milioni in più in più anche per il comune ne parla appunto l'assessore al bilancio che chiede di poter utilizzare l'avanzo del comune per coprire questo buco e poi invece ci sono finanziamenti per quanto riguarda i monumenti chiamiamoli così certi palazzi cittadini di grande valore storico PNRR al comune andranno 21 milioni per riqualificare i palazzi e i tecnici però devono correre per predisporre i progetti in quanto i lavori devono essere affidati entro il prossimo 30 settembre 2023 per non perdere parte dei fondi ebbene dunque via libera dalla Giunta per la riqualificazione di Palazzo Mazzolari Mosca di Palazzo Almerici sede della Biblioteca Oliveriana e del complesso di San Domenico tre emergenze culturali della città che devono essere riqualificate via Fratti via Fratti è sempre più un percorso di ostacoli i residenti sono ormai esasperati dal continuo sommovimento che esercitano i lavori che vengono fatti sulla strada i cantieri sono infiniti i lavori per i sottoservizi vanno avanti ormai da mesi e questa sera ci sarà un'assemblea con l'assessore Belloni e i tecnici c'è chi restando ancora in tema pasquale l'ha definita una vera e propria via crucis questa situazione un lungo periodo di passione con una serie di lamentele e di disagi segnalati dagli automobilisti che devono percorrere per forza di cose questa strada che ormai è interessata da lavori e quindi ci sono rallentamenti deviazioni e via dicendo e poi invece qua abbiamo un'iniziativa lodevole armati di scopa per le vie del centro con i volontari scatta il blitz del pulito e dopo i giardini della biblioteca sabato è in programma un intervento nelle strade nelle zone periferiche è un gioco di parole che introduce questo articolo volentieri volontari per descrivere l'iniziativa che coinvolge sia i consigli dei quartieri che l'Auser l'Aspes e il comune di Pesaro che è volta poi a promuovere la partecipazione attiva degli abitanti e dei quartieri per preservare il decoro e la polizia appunto dell'abitato ci sono molte persone che aderiscono a questa iniziativa perché vedere la città pulita ben ordinata curata è una bella cosa che dà un sollievo anche all'animo e dà ottimismo anche a chi vive in questa situazione e poi una notizia importante e bella la chiesa di San Giovanni una delle più belle chiese di Pesaro viene restaurata sono state trovate le prime risorse le evidenze alla capogruppo DEM Mattioli che interviene appunto sulla chiesa monumentale si tratta di un annuncio interessante perché dopo le prime verifiche di inizio febbraio ecco i primi 100.000 euro che verranno destinati alla sicurezza dell'antico chiostro dei frati minori e appunto ai lavori della chiesa una bellissima chiesa ha una facciata bellissima di stile rinascimentale venduto all'asta il libretto di Berio per il debutto dell'hotello di Rossini alla casa d'aste Gonnelli di Firenze è stato assegnato pensate per una cifra molto piccola irrisoria 325 euro acquistata anche la lettera di Lombroso ma il libretto dell'hotello è quello che fu distribuito al pubblico durante la prima rappresentazione dell'opera che avvenne nel teatro di San Carlo di Napoli il 4 dicembre del 1816 per quanto riguarda Vallefoglia vi leggo il titolo case rurali in arrivo nuove fondi per i recuperi e le ristrutturazioni nelle marche bandi per 600 milioni di euro nel territorio sono interessati circa 140 edifici storici mentre per quanto riguarda Urbino anche il Partito Democratico e l'associazione Viva Urbino chiedono di entrare nel progetto di sviluppo della rete ferroviaria un progetto che interessa sì i centri della costa soprattutto Pesaro e Fano ma che interessa anche l'entroterra perché poi da quello che accade nella costa ne risente anche la zona a monte la zona collinare quella che si estende fino alle propaggini dell'Appennino e soprattutto se poi ci fosse un collegamento con queste zone dell'entroterra tutta l'economia provinciale ne trarrebbe un beneficio e a questo punto abbiamo terminato l'esame del Corriere Adriatico quindi possiamo aprire il resto del Carlino per trovare un'apertura originale ebbene si parla di quei contratti molto molto precari che vengono offerti a chi aspetta un posto di lavoro un contratto da rinnovare pensate ogni 15 giorni è la proposta shock che è stata effettuata in un supermercato cittadino la denuncia è di Vincenzio Brescia Mianuora ha detto si è presentata ad un colloquio in una nota struttura c'era addirittura la fila ma le condizioni erano inaccettabili se i giovani sono disoccupati non è colpa loro ha dichiarato le hanno proposto un contratto di 12 ore alla settimana per due ore di lavoro al giorno da rinnovare ogni 14 giorni è successo ad un affanese di 32 anni che si è rappresentata ad un colloquio in un noto supermercato della città insieme a un sacco di altri candidati questa è la notizia poi seguono molte considerazioni e un'analisi per quanto riguarda questo problema della situazione dei precari sappiamo poi che il lavoro precario è quello che è prevalente rispetto al lavoro alle assunzioni di tipo indeterminato a tempo indeterminato che vengono effettuate in città un problema questo che appunto coinvolge l'economia di molte molte famiglie carnevalesca porteremo il bilancio ad un milione una delle dichiarazioni di Maria Flora Gianmarioli rilasciate ieri di fronte alla commissione garanzia e controllo un bilancio che è cresciuto moltissimo in questi ultimi anni partito da mezzo milione ora arriva quasi al doppio per tutte le spese in più che devono essere effettuate per assecondare e per rispettare diciamo meglio le regole sulla sicurezza quindi un milione è veramente una cifra particolare e poi ancora l'iniziativa di Metauriglia per quanto riguarda la festa del cavolo altro che borgata del cavolo Metauriglia radici passione identità in titolo in maniera molto entusiasta e il resto del Carlino e poi anche qui la riunione della centrale di Carrara si monitorano le case i tecnici di Terna misureranno i livelli di rumore campi elettrici ed elettromagnetici in caso di superamento si installeranno le schermature per tutelare appunto la salute dei residenti e poi un altro faccia a faccia è stato organizzato preventivato in questo caso per mercoledì 27 aprile nuovo incontro per parlare di Adriatic Link e opere compensative appunto in questo caso quello che i carraresi si aspettano in compenso della realizzazione di un raddoppio non è la stessa cosa però insomma per quanto riguarda almeno l'estensione della centrale esistente e veniamo anche alla cronaca 27 anni di carcere in 6 scacco ai signori dello spaccio una banda di campani residenti in città gestiva un vasto traffico di cocaina a Pesaro e a Fano 27 anni di carcere in 6 con danni pesanti per alcuni componenti di spicco di una banda di pusher tutti originari della campagna ma residenti a Fano che ricoprivano di polvere bianca le piazze della città le ha deciso ieri il GUP Francesco Messina al termine di un processo celebrato con rito abbreviato per quanto riguarda Marotta vediamo che si parla ancora di ferrovie soprattutto per quanto riguarda sia lo spostamento l'arretramento dei binari che per quanto riguarda le barriere che dovrebbero essere rete a tutela dell'inquinamento sonoro il presidente del comitato dice il comitato che lotta contro queste restrizioni se l'arretramento escluderà il nostro territorio a noi resteranno il traffico merci e il muro il muro delle barriere troviamo una sintesi ha sintetizzato appunto il presidente del comitato si tratta di Andrea Andreoni no al muro sì al mare dice appunto il membro del coordinamento degli analoghi comitati marchigiani e poi nuovi binari a fianco dell'autostrada come è stato fatto nella tratta Milano Bologna ad Urbino invece si parla del costo dei parcheggi che è stato aumentato alla chetichella assurdo la denuncia dell'albergatore Giulio Lonzi che è il titolare dell'albergo Raffaello se ne è accorto perché sono state le lamentele dei turisti è stato un aumento che viene più contestato più che per l'aumento stesso pochi centesimi in più ma perché è stato fatto senza coinvolgere nessuno degli operatori ovvero dei diretti interessati e quindi questa assenza questa mancanza di riguardo nei confronti della categoria ha determinato severe proteste e poi vediamo che a Borgo Pace è a rischio la scuola così si va tutti a Mercatello però ci sono la bellezza dei 12 km di distanza e per i bambini sarebbe un grave disagio scuola a rischio di chiusura a Borgo Pace così muore appello del sindaco Pier Antoni no allo spostamento della primaria l'ufficio regionale vuole portare le classi a Mercatello sul Metau e speriamo che questo non accada e questa comunque era l'ultima notizia Massimo Foghetti vi saluta vi dà appuntamento domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 con occhio alla notizia su Fano TV questo è tutto a risentirci grazie a tutti per la notizia